Albano Carrisi e Loredana Lecciso. Ecco la casa di lusso in cui vivono. Albano Carrisi e Loredana Lecciso rappresentano una coppia molto solida e molto chiacchierata del mondo dello spettacolo. Dopo la fine della relazione con Romina Power, Carrisi ha voltato pagina con la Lecciso, che fu un noto volto della fattoria. Ora, la coppia vive assieme nella splendida cornice di una splendida tenuta pugliese. Albano Carrisi e Loredana Lecciso, tutto sulla tenuta da sogno in cui vivono. Albano Carrisi e Loredana Lecciso, tra alti e bassi, hanno una relazione sentimentale ormai da moltissimi anni. I due hanno anche avuto due figli, Yasmin e Albano Carrisi GR. Dopo la fine della relazione con Romina Power, i fan sono rimasti delusi ma ad ogni modo Albano ha avuto modo di voltare pagina, conoscendo una donna molto importante per lui. La coppia è molto affiatata e vive in una casa da sogno, situata in una tenuta che porta proprio il nome del famosissimo cantante pugliese. La tenuta in cui vivono attualmente si trova a Cellino San Marco, proprio lo stesso luogo d'origine del cantante, in provincia di Brindisi. La dimora è una sorta di complesso, sicuramente all'insegna del lusso, come dimostrano i grandi prati e le cornici, che si possono trovare andando nell'enorme giardino. Il complesso si trova attorno alla masseria Cuturi Petrizi di proprietà del suo bisnonno. Di conseguenza ha anche un grande valore affettivo per Albano, che non ha mai messo in vendita la tenuta e, al contrario, ha sempre cercato di trascorrervi più tempo possibile. La tenuta è di origini settecentesche, così come la villa che si trova all'interno che ovviamente è stata arredata, secondo il gusto di Loredana Leciso e dello stesso Albano nel corso degli anni. All'interno del complesso si trova anche il vigneto, grazie al quale Carrisi svolge la sua seconda attività, che è la sua grande passione. Albano Carrisi e Loredana Leciso La scelta dell'arredamento della loro casa Per quanto riguarda le strutture che si trovano all'interno della tenuta, ci sono piscine, suite, punti relax e persino dei ristoranti. Infatti per certi versi la proprietà di Albano Carrisi è stata resa un luogo per le vacanze a tutti gli effetti, in cui si potrebbe anche soggiornare. L'abitazione dell'artista e della sua famiglia, ovviamente, fa parte della villa principale del complesso. La casa è stata arredata in stile rustico, con tanto di mobili di legno antico e lo stile generale, che è stato scelto è quello shabby chic. All'interno della casa si possono trovare anche candele, quadri e prodotti vintage molto ricercati. Ovviamente ci sono anche ricordi e cimeli appartenenti alla famiglia di Albano e non solo. I soffitti sono molto alti e tutte le stanze sono di grandi dimensioni. Inoltre è possibile godere della vista sulle splendide campagne pugliesi, e sul resto della tenuta. Voi che cosa ne pensate? Conoscevate questi dettagli sulla casa da sogno di Albano Carrisi e Loredana Lecciso? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Grazie per la visione!